Ciao a tutti ragazzi, XBREKKQ è qui e oggi sono qui per presentarvi il mio primo giveaway del canale. Ciò che voglio regalare ai miei fan oggi sono 10.000 crediti di Plus Ultimate Team 13. Spero col tempo, se avremo dell'utenza che sarà interessata a questo, di farne molti altri, anche con premi più sostanziosi. Ciò che dovete fare per questo giveaway è lasciare un commento divertente, iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Dopodiché, quando il contest scadrà alla quota di 50 partecipanti, farò l'estrazione registrata, cioè farò vedere che non ci sono trucchi e al vincitore regalerò 10.000 crediti del gioco. Spero che voi possiate aderire in molti e se anche gli utenti che parteciperanno, saremmo tutti i 50, fai niente. Se arriveremo a una quota abbastanza buona di scritti grazie a questo contest, nel prossimo contest farò 20.000 crediti, poi 30.000 e così via. Oppure, per esempio, poi vediamo qualcos'altro. Ho idea anche di fare delle sfide su FIFA per coinvolgere tutti gli utenti, ma per ora non ve ne voglio parlare. Quindi mi raccomando, se volete partire a questo contest, lasciate un mi piace, un commento divertente e iscrivetevi al canale. Speriamo che vinca il migliore. Vi darò il risultato, appunto, dopo qualche giorno, quando le persone che vanno partecipato saranno abbastanza. La XDRAI KAKU per oggi è tutto e ci vediamo tra poco. Bella! Ciao!